buonasera buonasera a tutti da massimiliano qui è massimiliano colosimo che vi parla sono per la prima volta prodato su questo canale radiofonico o pseudo radiofonico questo bellissimo speaker è la prima volta che sono qua quindi è una puntata chiamiamolo una prova tecnica ecco non so esattamente di cosa parlerò non solo in questa puntata ma addirittura tutto il mio soggiorno qua in questa in questi podcast no vabbè andando avanti magari mi farò un'idea però veramente questa vuole essere una prova tecnica ma innanzitutto diciamo chi sono io perché magari qualcuno di voi mi conosce perché mi segue sulla pagina facebook e tra l'altro sto pubblicando per la prima volta nella storia mia personale sulla pagina facebook proprio questo podcast per vedere che cosa ne viene fuori però per chi non mi conosce io appunto mi chiamo massimiliano e sono il fondatore del metodo onirotarologia che è un metodo che utilizza la simbologia dei tarocchi in chiave onirica cioè come supporto per l'interpretazione dei sogni sicuramente in questa rubrica parlerò certamente di simbologia onirica appunto dei dei tarocchi ma anche così chiacchierate anche più sciolte anzi se il motivo che mi ha spinto a registrarmi a questa piattaforma appunto spreaker è anche quella di avere un canale dove parlare anche in libertà magari dicendo un sacco di sciocchezze o cose che mi vengono in mente speriamo di no speriamo il più possibile di avere un'idea più strutturata e col tempo magari capirò meglio anzi il tono da dare il taglio da dare a queste come chiamarle puntate podcast anzi già in questa prima puntata approfitto per chiedervi se magari c'è qualche argomento di cui mi piacerebbe suggerire dar qualche stimolo magari per la prossima puntata se così non fosse proverò comunque io a buttare lì qualche pillolina radiofonica sul mondo dell'interpretazione dei sogni sulla simbologia dei tarocchi spieghiamo subito che cos'è questa onirotarologia ripeto magari qualcuno di voi sarà anche annoiato perché mi segue da mesi o magari addirittura anche da anni e sa benissimo di cosa parlo però per chi mi ascolta per la prima volta diciamo che l'onirotarologia è una tecnica che utilizza i tarocchi come dicevo non tanto per fare delle letture tra virgolette cartomantiche o meglio non utilizza i tarocchi per a scopo divinatorio è una tecnica che invece utilizza i tarocchi andando a scegliere per ragioni che poi magari scopriremo assieme magari parlando più della tecnica vera e propria di onirotarologia dicevo però è una tecnica dove i tarocchi non vengono estratti in modo tra virgolette casuale bensì vengono scelti perché descrivono grazie alla loro simbologia un sogno quindi si va a ricercare a costruire una sequenza di tarocchi che corrisponde al racconto di un sogno quando parlo di estrazione casuale dei tarocchi non intendo sminuire questa pratica in quanto per il grande jung tutto in realtà è sincronicità per cui anche la diciamo l'estrazione tra virgolette casuale corrisponde sempre a un tema di sincronicità tra l'altro approfitto per fare un piccolo spot non so se avete letto ve lo consiglio il meraviglioso libro di in pratica è la trascrizione di un seminario di marie louise von franz si chiama divinazione sincronicità edito da edizioni tlon è un bellissimo libricino ve lo ve lo assicuro ve lo berrete però appunto qui si parla su questo su questo testo del tema della sincronicità in realtà non tanto abbinata ai tarocchi ma ai sistemi divinatori in generale a partire dai cing in pratica qual è l'idea che quando si fa un'estrazione in quel momento si stabilisce un collegamento con tutta la dinamica del cosmo che ci circonda in altre parole se in un particolare momento noi facciamo un'estrazione quell'estrazione sicuramente è connessa in qualche modo con tutti i fili invisibili e misteriosi che legano i vari accadimenti a livello del cosmo a livello macro ma anche a livello micro però ecco come vi dicevo con questa tecnica invece di unirotarologia siamo noi ad andare a scegliere i tarocchi che sono più collegati alle immagini di un sogno e faremo magari degli esempi pratici anche se sul mio blog magari trovate già dei riferimenti o degli esempi di questo di questo tipo di tecnica come vedete sto parlando molto a vanvera non ho molto bene le idee chiare per cui penso di aver registrato già 5 minuti 5 minuti di registrazione per essere una prima puntata pionieristica penso possa andar bene mi riprometto la prossima volta di venire fuori con una puntata più strutturata però ecco chi già di voi magari mi vuole segnalare qualche tema qualche spunto qualche curiosità su cui costruire la prossima puntata ben venga in caso contrario parleremo di ma cosa potremo parlare la prossima volta un tema che ho molto a cuore che riguarda il dialogo con con il proprio inconscio vabbè ci ragionerò sopra in caso appunto scrivetemi qui o anche in come messaggio privato sulla mia pagina facebook grazie per questa prima puntata grazie per l'ascolto per il non ascolto buona serata